1416-2016, Perugia affronta quest'anno per la prima volta la sua rievocazione storica. È dedicata a un personaggio che dal 1416 al 1424 instaurò su Perugia la prima signoria e riuscì a riunire quasi sotto la sua ala l'Italia da Bologna fino al Regno di Napoli. La rievocazione storica per noi è più di un pretesto, non è solo l'11 e il 12 giugno, i due giorni canonici dedicati alla rievocazione, ma è un modo di organizzarsi, di un risveglio della città, l'abbiamo chiamata la rinascita di Perugia. Lavorerà per tutto l'anno con tutta una serie di incontri che si svolgono secondo le tre direttive dello studio dell'economia e del gioco. Rinascita, risveglio del turismo, risveglio dell'economia, aggregazione, riscoperta dell'entusiasmo anche da parte delle generazioni più giovani, spesso molto penalizzate.